Il 1 settembre del 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la riforma della giustizia tributaria. La vera svolta epocale risiede nell'introduzione, per la prima volta, nel processo tributario della cosiddetta prova testimoniale e nel prevedere che l'onere della prova è in capo all'accusa. Se ne è parlato nel corso del forum, promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Eraldoturi. I lavori sono stati introdotti da Fabio Cecere e Pietro Paolo Mauro, consiglieri delegati della Commissione Contenzioso Tributario. Ascoltiamo i protagonisti dell'evento, Marco Catalano, Nuna Maione e Immacolata Vasaturo. Molte luci, ma qualche ombra che ancora persiste dopo l'entrata in vigore della legge della riforma della giustizia tributaria che è un primo passo verso l'avvicinamento alla procedura civile, quindi un rito più o meno omogeneo per tutte le categorie e per tutte le materie. Devo dire che negli ultimi anni si sono un po' accelerati i tempi, dal deposito di un fascicolo in Commissione alla discussione del ricorso può passare anche qualche mese, un tempo era ben diverso. La mole di Contenzioso però è ancora molto elevata ed è proprio per questo, nell'ottica di velocizzare i processi tributari che appunto in attuazione di quello che è stabilito dal PNRR è stato varato, insomma è stata emanata questa legge 130-2022 di cui parleremo oggi. La velocizzazione dei processi mi sa che è ancora un obiettivo remoto e difficile da raggiungere. Il bollino di affidabilità fiscale è sostanzialmente un punteggio, un rating che viene dato ai contribuenti più virtuosi e consente di accedere a delle misure premiali. Faccio uno tra i vari esempi possibili. Non ricevere accertamenti basati su presunzioni semplici. Oggi ne parliamo perché questa misura è intervenuta nell'ambito del processo tributario e consente di escludere l'obbligo o comunque la possibilità che il giudice tributario chieda una garanzia a fronte dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Quindi il contribuente virtuoso che ha un punteggio almeno pari a 9 perché la scala va da 1 a 10 può non dover essere chiamato a dare garanzia per sospendere l'esecuzione di un atto.